Le elezioni comunali anche nel Golfo di Policasso nel weekend scorso che hanno portato alla scelta e alla composizione dei consigli comunali. I piccoli comuni di Torraca e Torre Orsaia sono stati chiamati al voto per una tornata elettorale decisamente combattuta in entrambi i comuni. Le percentuali che hanno portato poi alle elezioni a Torre Orsaia di Pietrovicino e a Torraca di Francesco Bianco sono state decisamente risicate, frutto anche di campagne elettorali molto combattute. I due confermati sindaci erano scesi in campo per il terzo mandato che doveva inizialmente essere l'ultimo ma che alla luce delle novità normative approvate potranno ora vederli nuovamente in campo per ambire alla guida dei loro paesi. Vittorie sofferte che hanno regalato anche maggiore emozione ai sindaci vincenti che sono così riusciti ad aggiudicarsi la fascia tricolore per il terzo mandato. A Torre Orsaia Pietrovicino e la sua lista sono risultati vincitori con 749 preferenze ottenute rispetto alle 622 della lista avversaria capeggiata da Enzo Risoli. Un risultato ed una vittoria che ha consentito anche di alleggerire una tensione durata settimane come emerso dalle parole del primo cittadino. È stata un'elezione molto combattuta, sentita dalla gente, abbiamo avuto percentuali di partecipazioni molto molto alte, hanno superato l'80%, il che è testimonia del fatto che la gente ha partecipato. Era in gioco non tanto il mandato dell'uno o dell'altro ma era in gioco il modo di fare politica, il futuro contrapposto a un modo antico del passato e la gente ha scelto in piena libertà. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Daremo continuità all'azione che abbiamo già avviato, attueremo tutta una serie di iniziative che abbiamo già fatto dalla cooperativa di comunità, le iniziative previste dal piano urbanistico comunale che abbiamo di recente approvato, tutta una serie di valorizzazioni e lavoreremo molto sul sociale, come è giusto che sia vista la difficoltà dei tempi. Questa volta spero, contrariamente a quanto è successo nelle due precedenti occasioni, che coloro che sono stati arrisi dal successo contribuiscono alla vita della comunità e non si ritirano come è capitato nelle volte precedenti. Molto più dura e difficile la vittoria a Torraca di Francesco Bianco, che è riuscito per una manciata di voti a battere la lista capeggiata da Daniele Finizzola. Appena 12 voti di scarto tra le due liste in campo, dunque davvero una vittoria sudata per il confermato sindaco bianco. È stata molto sofferta, molto dura, però molto importante. Ecco, a volte si dice basta per un voto. Non mi accontentavo di un voto, sicuramente non ci accontentiamo neanche dei 12, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi dieci anni, abbiamo creato una bellissima lista, però diciamo, poi ci sono tante cose in politica, chiamiamola politica, che fanno cambiare opinione della gente. Però siamo soddisfatti, sono soddisfatto per me, sono soddisfatto per loro. Li devo ringraziare uno ad uno perché lo faccio per loro e lo faccio con loro. È soltanto questo. Sono gratificato perché loro sono felici, hanno sofferto insieme a noi e questa è la meritata ricompensa. Sì, questo è un entusiasmo che si palpava. Sono quelli che ci hanno sempre sostenuto da tanto, tanto tempo. Sono emozionatissimo, sono stanco, però stanco ma felice. Quello è l'importante. Grazie.